avevo già fatto un video di presentazione della mia onda transalp xl 750 che ho chiamato ascia ma siccome negli ultimi due o tre mesi ho apportato ulteriori aggiornamenti ulteriori miglioramenti upgrades chiamateli come volete dunque ho deciso di rifare il video per farvi vedere rispetto a come onda vende il modello base di questa moto della onda transalp appunto per farvi vedere tutte le varie cose che ho aggiunto che ho modificato al fine di renderla diciamo soddisfacente ai miei gusti personale e renderla soprattutto efficiente confortevole per il tipo di utilizzo che ne faccio io prima di entrare nel dettaglio dei vari aggiornamenti che mi limiterò ad elencarvi senza scendere troppo in profondità altrimenti il video verrebbe veramente troppo lungo qual è il tipo di utilizzo che ne faccio io di questa moto dunque io abito in provincia di Siena utilizzo la moto normalmente nel periodo caldo quindi quello che va da aprile fino a settembre ottobre anche per andare al lavoro quindi utilizzo apertamente il cittadino dopodiché durante tutto l'anno mi aspetto di utilizzare la moto prevalentemente nel fine settimana per andare a giro per andare a fare per lo più asfalto nel periodo estivo perché nel periodo estivo nelle strade bianche come questa dove sono ora c'è tanta polvere quindi non è molto simpatico andarci mentre nel periodo invernale vado a fare più strade bianche e anche qualcosina in più delle strade bianche quindi qualche scorrevole qualche mulattiera senza andare a cercare quello che io chiamo l'impestato ossia qualcosa che è più adatto a una moto cilindrica piuttosto che una bicilindrica da due quintali come la Honda Transalp con l'Africa Twin per chi mi conosce e mi segue nel canale sa che in passato sono infilato in dei posti che non erano ad Africa Twin e come ho detto fin dall'inizio non ho intenzione di ripetere le stesse cose con questa moto anche perché poi la moto dopo poco inizia a soffrire effettivamente e anche la manutenzione inizia a diventare abbastanza impegnativa come cosa e quindi sarà un attimino più tranquillo con questa moto qui o almeno mi auspico questo ecco ho suddiviso gli aggiornamenti in quattro chiamiamoli capitoli ciclistica che probabilmente è la più importante protezioni comfort e poi vari ed eventuali e direi di iniziare immediatamente dalla ciclistica che sicuramente ricopre nella moto tra tutti i vari aggiornamenti l'aspetto più importante no perché poi alla fine le modifiche che si fanno alle sospensioni sono quelle che poi si riescono a percepire meglio nell'immediato poi magari dopo ci si abitua ecco però appena si fa la modifica si capisce subito che si è speso bene i propri soldi nel mio caso questo però non lo posso dire perché io la moto l'ho ritirata già con le modifiche che vi andrò ad elencare ma avevo provato quella sensazione dell'Africa Twin e quindi in questa moto non ho voluto perdere tempo a lasciare le sospensioni originali ma ho subito fatto le modifiche che vi vado ad elencare davanti nelle forcelle ho fatto montare dei pompanti Misani Evo da Andreani di Andreani scusate sono andato al centro Orleans di Siera da Fani la cartuccia è la parte vera e propria che sono andato a sostituire la moto per questa moto vengono fatte due versioni la Misano Evo e poi la Misano Rally Rally pro roba del genere la Rally è quella per chi vuole andare a fare salti nei campi ma siccome come vi ho detto io non ho intenzione di farne un uso estremo fuori statistico le Misano Evo vanno più che bene sono orientate a chi utilizza la moto a un 50 e 50 mentre se andiamo a spostarci dietro l'altra modifica che ho fatto è il mono ammortizzatore Olins il mono ammortizzatore Olins che ha regolazione di estensione e compressione tramite un unico registro un unico registro che ha una trentina di click totali che andandolo a chiudere o aprire praticamente va a impattare sia sulla compressione che sull'estensione però per farvi capire la moto mi è stata consegnata con 14 click di apertura rispetto a tutto chiuso quando ho montato queste gomme che sono delle gomme un attimino più fuori statistiche rispetto alle caro street che c'erano di serie io ho tolto 6 click su un totale di 30 ricordo e 14 di partenza e la moto dietro si è completamente trasformata come se avessi preso un altro mono ammortizzatore e ce l'avesse messo lo stesso davanti i pompanti abbiamo da una parte il registro per la compressione da quell'altra per il ritorno quindi una forcella fa la compressione quell'altra fa ritorno di serie mi è stata consegnata con due giri di apertura in entrambe le regolazioni io per fare un assetto un po più morbido ho semplicemente tolto tre quarti di giro da una parte e un giro da quell'altra e davanti la moto si è trasformata è un po questo il bello di spendere dei soldi per le sospensioni nelle moto perché così quando si vanno a metterci le mani a fare le regolazioni si sentono anche le differenze dopo mentre tutti sapete benissimo con le sospensioni di serie potete girare quante volte volete non succede nulla e molestando che il precarico sia davanti che dietro una volta fatto quindi una volta misurato il sag quello rimane si va a toccare il precarico del mono dietro solo quando si deve caricare un passeggero quindi aumenta il peso da sostenere quindi va reggidita un po la molla stop in questo caso cinque click per una persona che pesa 50 kg quindi un giro circa non click scusate per circa 10 kg di peso aggiuntivo sempre rimanendo tema ciclistica cerchi modifica dei cerchi bar tubeless quindi sono cerchi entrambi tubeless la modifica è quella che prevede la sigillatura del cerchio posteriore che rimane esattamente come lo vedete mentre davanti poiché il canale non è un canale anti stallionamento quello di serie dunque bar tubeless fornisce un canale nuovo che ha appunto l'anti stallionamento dopodiché ci rimonta i raggi originali e sigilla una modifica che se non vado errato costa intorno alle 600 euro e adesso passiamo al capitolo protezioni protezioni della moto che naturalmente per chi fa un uso anche parzialmente fuori statistico sono non voglio dire indispensabili ma sono sicuramente importanti chi ha visto la moto appena l'avevo presa ricorderà benissimo che avevo il paracopa alle barre basse originali e avevo paramani originali quella fu una scelta iniziale di ripiego perché questo kit che vedete ora all'epoca non era disponibile e non sarebbe stato disponibile per tre mesi circa io cosa ho fatto ho fatto mettere il kit rally nella moto consapevole del fatto che dopo avrei rivenduto molto facilmente il tutto e così è stato e quando il kit che vedete è stato disponibile l'ho acquistato e l'ho montato e adesso vi dico cosa sono andato a montare ho montato tutto il kit combo di hotback motor tech kit che è composto da queste barre medie che non sono proprio barre alte sono barre medie che vanno ad agganciarsi centralmente nel telaio della moto e poi in due punti qua nel telaio non va a toccare il motore solo telaio della moto mentre quello sotto è il paracoppa paracoppa che può essere montato solo ed esclusivamente in abbinamento a queste barre stiamo parlando di un qualcosa è tutto insieme costa sui 600 euro ed è un qualcosa che è veramente molto molto robusto e tozzo qual è l'unico grosso difetto che ha questo kit secondo me secondo il mio modesto parere è che rispetto al alla combo originale onda il paracoppa e le barre basse forniscono in questa zona qua una maggior protezione ok specialmente dalla parte di là mentre qui come vedete questa zona rimane tutta scoperta ecco che ho ovviato parcialmente al problema per le sassate per i tonfi dei legni sassi di rimbalzo tengo intendo ma probabilmente anche per cadute ho deciso di acquistare questi carter qua questi che vedete sono due carter da questa parte sono due primo pezzo secondo pezzo dalla parte c'è un altro pezzo sono di nylon hanno uno spessore di circa 5 6 mm e sono veramente tosti e robusti li ho montati appunto per migliorare l'aspetto protezione dei carter motore perché nell'africa twin sebbene avessi un paracoppa esagerato era veramente molto molto bello quel paracoppa succedeva che le sassate di rimbalzo mi procuravano dei micro segnettini nei carter del motore così quando dopo 50 mila chilometri l'ho rivenduta c'era un motore sembrava avesse preso una fucilata da distanza era tutta piena di piccoli segni non bellissimo da vedere non che sia un grosso problema parliamoci chiaro però in questo caso a parte per quel discorso delle sassate qui nel caso in cui si dovesse appoggiare la moto in terra e per assurdo ci fosse qualcosa di sporgente questo dovrebbe fornire un minimo di protezione è chiaro che se uno cade a velocità molto elevata e la moto nello scivolare incontra qualcosa di cemento o un sasso questi non fanno nulla ecco questi forniscono una protezione minima e proprio basilare stiamo parlando di una spesa pare a circa 75 80 euro non mi ricordo le ho presi su aliexpress e sono originale gb racing gp racing la potete cercare su internet hanno il loro sito è roba approvata dalla firma insomma roba tosta seria e fatta bene vi dico solamente di fare attenzione se prendete questo kit se avete questo paracoppa qua giù in basso la vita qua di sotto dovrete molarla perché altrimenti vi andrà in conflitto col paracoppa è mal di poco si usano tre viti anziché quattro mentre il vero problema il grosso problema è dalla parte di là c'è la vite numero due che di serie il produttore gp racing manda lunga 40 mm ma serve lunga 50 mm e se voi andate a montare quella che vi danno loro rischiate di fare fuori quindi spanare il filetto del carter quindi poi comunque se non siete degli sproveduti quando andate a montarlo ve ne accorgete che prende solo per un filetto due e quindi dovete procurarvi una vite più lunga io li ho scritto al produttore che l'ho fatto presente perché mi è sembrato un errore abbastanza grossolano ecco per il resto sono fatti veramente molto molto bene copiano perfettamente i carter del motore e ve li consiglio vivamente sempre in tema di protezioni paramani paramani barbuster questi lo sapevo che li avrei comprati a prescindere dalle barre dal paracoppa hotback motor tech lo sapevo perché li ho posseduti nell'africa twin anche questi ci ho battuto veramente tanti crepenti in terra ve lo posso assicurare e questi ho rivenduto la moto che erano esattamente come quando le avevo montate all'inizio sì ok c'era qualche graffietto naturalmente ma erano ancora in tonsi questa plastica chiamata vps io non lo so cosa è ma la mia ex africa twin è ruzzolata talmente tante volte in terra ha preso talmente tanti rami frascate sassate tutto quello che volete queste plastiche erano solamente graffiate è una cosa incredibile e poi c'è questa anima di alluminio alluminio veramente molto molto importante che è veramente tosto da piegare per chiudere il capitolo protezioni grilla radiatore questa qui che ho montato è originale onda che è anche molto bella dal punto di vista estetico e oltre ad essere bella dovrebbe in caso di necessità fornire protezione adeguata a redatto e poi abbiamo le calze corte a protezione della forcella dello stelo della forcella non ho voluto prendere quelle lunghe perché diciamo che queste sono simpatiche si possono smontare completamente lavarle e rimontare mentre quelle altre quelle lunghe per togliere e lavarle completamente andrebbe sfilata la forcella veniva un po più macchinosa però va detto che quelle lunghe che ho avuto nell'africa twin hanno molto meno bisogno di essere lavate rispetto a queste quindi è una scelta che uno farà in funzione dell'utilizzo che vuole farne della moto chiaramente se avessi saputo che con questa moto mi sarei infilato esattamente negli stessi posti dove andavo con l'africa twin allora avrei messo quelle lunghe ma siccome come vi ho detto un'apertura non ho intenzione di rifarci le stesse cose e mi terrò diciamo abbastanza a distanza dal fango specialmente ecco che penso che le calze corte che fa fork saver siano una soluzione abbastanza comoda pratica e anche efficiente siamo arrivati al capitolo comfort capitolo che ho deciso di chiamare così comfort perché ho identificato all'interno di questo capitolo una serie di piccoli accessori che ho montato che di fatto migliorano un po il comfort della moto stessa e direi di iniziare da questo qua dal cupolino predator cupolino predator che ho montato due giorni fa per l'appunto è prodotto da goffi che è un artigiano che si trova nella zona di montevarchi lui ha sempre fatto accessori e miglioramenti vari per quasi tutte le onde in particolar modo transalp ma anche dominator e altre moto non fa solo onda naturalmente ha prodotto diversi anni fa questo tipo di cupolino che si chiama predator che in sostanza vado a spiegarvi subito pur essendo grosso alto più o meno come il cupolino originale ha una resa aerodinamica che non è paragonabile all'originale ed il perché è molto semplice in sostanza l'area entra dal davanti entra da qua qui dentro c'è un canale scavato e viene sparata in alto ok quindi questa è una specie di canale venturi chiamiamolo così che ha lo scopo di indirizzare l'area verso l'alto e questa soluzione di fatto rende la guida più confortevole quando si va a velocità importante in pratica nel casco arriva un flusso d'aria molto ridotto rispetto all'originale e a parte questo aspetto migliorativo per quanto riguarda il comfort nudo e crudo c'è anche un aspetto estetico che a me è piaciuto immediatamente appena l'ho visto questo cupolino per il suo particolare design per il suo colore in funzione di come ho scelto la moto io beh l'ho visto e ho detto questo cupolino lo voglio nella mia moto quindi la prima scelta è stata più che la scelta di comfort una scelta di estetica perché è veramente molto molto bello e fatto bene e secondo me ci sta benissimo nella moto magari la rende non voglio dire un filino pacchiana tamarra come si dice alle parti può essere secondo me la rende un po più aggressiva frontalmente e dona al muso della moto quell'aggressività in più che originariamente le manca però qui stiamo nel soggettivo quindi ognuno faccia della propria moto quello che preferisce questo cupolino costa sui 140 euro l'altra cosa che riguarda il comfort sono le pedane rally che arrivano con il kit originale honda rally sono delle pedane che secondo me sono fatte bene l'unico difetto che potrebbero avere e spero di non testarlo mai è che sembrano molto fine come anima e quindi c'è il rischio che durante una caduta si possano piegare molto facilmente è vero che si richiudono però come vedete non si richiudono completamente e è per questo che vi ho detto che si potrebbero piegare molto facilmente comunque meglio che si pieghino loro piuttosto che si rompa l'attacco della pedana stessa ma ripeto spero di non testarle mai è un acquisto questo in funzione del costo che vi suggerisco caldamente l'altra cosa il quick shifter naturalmente originale honda un acquisto fantastico che era compreso nel kit rally e ora che l'ho provato e so come funziona un quick shifter non potrò mai più farne a meno nelle mie future moto anche questi sono soldi secondo me spesi benissimo al di là del comfort perché a volte può far comodo non dover tirare a leva della frizione per cambiare marcia e qui c'è anche un discorso di divertimento è veramente molto molto divertente il quick shifter se non l'avete mai provato provatelo e vedrete che lo vorrete anche voi nella vostra moto poi abbiamo le manopole riscaldabili originali honda acquisto che io vi consiglio costano parecchio perché gli accessori originali honda costano però rispetto a quelle che ho avuto in passato nell'onda integra 750 queste sono delle vere e proprie manopole riscaldabili sono veramente fatte bene poi l'integrazione con il quella strumentazione di bordo è perfetta viene viene l'indicatore del livello basta premere un tasto si attivano e si disattivano veramente molto molto simpatiche e anche queste ve le consiglio vivamente sempre rimanendo in zona un altro acquisto che ho fatto che io ho messo categoria comfort però si potrebbe anche inserire in categoria protezione ma sono gli specchietti reclinabili della farra questi praticamente hanno due scopi il primo scopo è quando a volte si entra in un tratto un attimino più cespuglioso dove in pratica il contadino non è passato a tagliare rami e questo non succede praticamente mai lo sapete benissimo comunque quando si arriva a maggio questo mese qua aprile maggio giugno e si entrano questi stradelli di bosco dove c'è vegetazione fitta la sporgenza degli specchietti rompe un po' le scatole perché potrebbe capitare che un ramo ci si aggangia e si rischia di cadere allora cosa si fa si prendono gli specchietti e si chiudono e si risolve il problema l'altro vantaggio di avere questi specchietti è che se andate in terra lateralmente e c'è qualunque altra sporgenza lo specchietto è appantonfo e si richiude senza rompersi quindi voi semplicemente dopo lo rimettete in posizione e avete finito con gli specchietti originali invece nella migliore delle ipotesi qui si piega leggermente se siete un pochino più sfortunati si spezza direttamente il braccetto dello specchietto lo dovete buttare via dopo ma se siete molto sfortunati vi si potrebbe disintegrare come è successo a diversa gente il blocchetto dove è affissato lo specchietto perché lo specchietto originale ha una sezione veramente importante è molto tosto è molto robusto non è un minghialino come questi far qua che costano 25 euro tutte e due sono specchietti molto molto robusti e c'è il rischio che vi possa rompere il blocchetto dove c'è agganciata fissata al manubrio la leva del freno anteriore se vi succede questo durante l'uscita a mezzo al campo voi a casa con la moto non ci ritornate a meno che non rinunciate al freno anteriore e non è una bella esperienza ve lo posso assicurare quindi questo acquisto anche se esteticamente fanno veramente schifo diciamocelo io ve lo consiglio se avete intenzione ogni tanto di uscire dall'asfalto ecco poi abbiamo la presa accendi sigari 12 volt originale onda questa è una cosa che fa troppo comodo per ricaricare il cellulare naturalmente poi abbiamo il cavalletto centrale onda anche questo soprattutto per la manutenzione della moto è un qualcosa che aggiunge del peso va detto però è un qualcosa che una volta avuto posseduto e provato io sinceramente non sono riuscito a farne più o meno e per questo quando ho ordinato la moto l'ho fatto mettere in tanti non sono d'accordo su questo tipo di accessorio perché come ho detto aggiunge altro peso alla moto e chi vuole andare fuori strada più leggera è la moto è meglio è però ripeto è veramente troppo comodo concludiamo rapidamente il capitolo comfort con il tpms ossia il sistema che monitora la pressione degli pneumatici c'è questo piccolo display qua aggiuntivo nel cruscotto tutta roba cinese naturalmente e al suo completamento ci sono due tappi che si mettono nei due cerchi anteriore e posteriore ce l'avevo nell'africa twin per quanto mi riguarda un accessorio che può essere anche comodo ma che può dare anche una mano in termini di sicurezza perché vedete più o meno quello che sta succedendo ai vostri pneumatici ed è un qualcosa ripeto che io consiglio tra l'altro per come l'ho messo io riempio un buco vuoto lì e quindi non dà fastidio ultima cosa il supporto per lo smartphone questo acquistato su amazon molto economico ma dannatamente fatto bene dannatamente funzionale per ora oramai sono quattro mesi che è su questo manubrio quando l'ho preso in mano la prima volta l'ho messo ho detto vedrai questo tra un mese non ci sarà più vedrai dopo un mese avrò perso tre o quattro cellulari in realtà non ho mai perso il cellulare e il supporto ancora lì per cui questo supportino qui io ve lo consiglio vivamente siamo dunque arrivati all'ultimo capitolo le varie ed eventuali le ultime cose aggiunte nella moto quindi andiamo molto rapidamente e abbiamo lo scarico mi questo l'ovale inox anche questo l'ho voluto per un aspetto per due motivi estetica perché è bello ci sta veramente bene nulla da dire e poi per il sound me ve la conoscevo e sono andato sul sicuro ci sono voluti un po di chilometri per bruciare un attimino la di roccia di vetro non lo so oggi cosa utilizzano che al suo interno dopodiché ha iniziato a suonare bene però non è un suono volgare non vi spaventate se voi volete andare civilmente in città a un fil di gas senza aprire troppo il gas nessuno si girerà a guardarvi ecco se invece volete che tutti si girino allora batto a scalare un paio di macce e avvolgere e tutti si gireranno mi piace per questo mi piace per questo motivo questo scarico poi sempre per rimanere in zona ho fatto montare l'adattatore per la piastra monokei givi e la piastra è la piastra in alluminio m8a la stessa che avevo nell'africa twin era un deciso tra questa e quella la m9a mi pare si chiama che è quella un pochino più bombata però per la moto che è la transalp mi piaceva di più questa tanto il costo più o meno è lo stesso poi sempre per rimanere in zona abbiamo l'aggancio nel serbatoio tank lock system che ho messo come del resto avevo nell'africa twin adesso qualcuno dirà ma il cavolo ma ti hai fatto il clone transalp dell'africa twin non ci siamo andati tanto lontani no questa ce l'ho messa solo ed esclusivamente per uso fotografico ci metterò ci metto la borsetta fotografica quando vado a fare delle girate fotografiche non ci metterò mai la borsa vera e propria la borsa tank lock perché non è il tipo di moto dove quel tipo di borsa si può utilizzare diciamo per la guida da seduto si può utilizzare non da grossi problemi però come ci si alza in piedi da veramente molto molto fastidio e non permette di muoversi agilmente sulla moto mentre con la borsetta fotografica quella piccolina che c'ho io riesco a muovermi agilmente in piedi senza nessun tipo di problema ultima cosa la protezione della strumentazione la pellicolina di protezione ce l'ho messa appena presa la moto è un acquisto che vi consiglio vivamente la trovate tra il suo aglio express e montatela il prima possibile perché la strumentazione di serie si graffia a guardarla mentre paradossalmente la pellicola cinese da due euro non si graffia è impossibile graffiarla ecco bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video vi dico due cose prima di lasciarvi la prima è che ho rimesso in piedi il mio blog mcbiker che adesso ha un nuovo indirizzo arl ho iniziato da qualche giorno a riscrivere qualche articoletto per la mia ascia e per tutti gli upgrades che ho fatto e quindi se volete rileggere tra parentesi i contenuti di questo video li trovate nel mio blog dove tra l'altro ho rifatto una pagina dove sono elencate tutte queste modifiche che ho fatto la seconda cosa che se avete domande dubbi perplessità su tutto quello che vi ho detto non dovete avere paura mi lasciate un commento e io con calma come sempre vi risponderò detto questo ragazzi non ho nulla aggiungere ciao a tutti e alla prossima